Bella a tutti ragazzi su Parla e Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un nuovo video, sicuramente come avete letto dal titolo Quest'oggi andremo ad affrontare l'argomento 8x1 Ovvero l'episodio 100 che c'è stato ragazzi ieri Un episodio veramente a mio parere fantastico, un episodio che ha detto veramente tutto Ed in questo video andrò a fare la recensione, ovviamente strettamente personale Di quello che è stato l'episodio 8x1 e analizzare quelli che sono i possibili pro e contro Che abbiamo visto all'interno di questo episodio, diciamo inizio proprio L'inizio dell'ottava stagione The Walking Dead che ha dato anche festeggiamento all'episodio 100 di The Walking Dead In questo video soltanto ragazzi andremo soltanto ad analizzare l'episodio Non andrò a rispondere alle vostre domande come al solito Però se avete qualsiasi domanda da farmi fatela facendo hashtag question and answer E successivamente ovviamente io vi risponderò poi nei prossimi video Quindi mi raccomando ragazzi fate la vostra domanda qui giù nei commenti Prima di iniziare come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace perché ci tengo veramente moltissimo Mi raccomando ragazzi raggiungiamo tantissimo mi piace per questa recensione Inoltre iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti di The Walking Dead Visto ragazzi che oggi vi farò uscire un po' di video Una analisi di quello che è stato il primo episodio Con un particolare analisi di un qualcosa che c'è stato all'interno dell'episodio L'analisi della promo dell'episodio dopo Insomma ci saranno tantissime cose quindi state veramente ragazzi sintonizzati sul canale Che ne usciranno delle belle Quindi mi raccomando iscrivetevi Se volete entrare nel gruppo telegram trovate il link in descrizione della pagina facebook Basta mandarmi un messaggio privato e potete entrare tranquillamente Vi darò il link per entrare nell'interno del gruppo telegram Lì si parla di The Walking Dead cose del genere Quindi tranquilli trovate il link in descrizione della mia pagina facebook E che dire ragazzi adesso possiamo iniziare subito con il video È iniziato ragazzi veramente a bomba quello che è stato l'episodio 8x1 Che poi ha dato il festeggiamento al centesimo episodio della serie Un episodio che veramente ragazzi mi ha colpito fin dall'inizio Mi ha colpito proprio come è stato fatto Come è stato realizzato Allora partiamo dal presupposto che all'interno di questo episodio troviamo 4 timeline diverse Queste timeline verranno tutte analizzate nei successivi episodi Quindi evitate di scrivere nei commenti Perché molti molti hanno criticato la puntata dicendo che non si è capito nulla Se non avete capito nulla riguardate la puntata un'altra volta Per analizzare le cose che magari non avete analizzato Vedendo le esplosioni e le cose che ci sono state all'interno dell'episodio Che ovviamente hanno catturato la nostra attenzione chiaramente Quindi vi consiglio di rivedere un episodio nuovamente per analizzare quei contenuti Che magari vi sono sfuggiti Seconda cosa lo show in questo modo l'ottava stagione Sta attraversando 4 timeline diverse Il timeline di Rick che fa il discorso appunto a tutti quanti Sia a quelli di Hilton per regno eccetera eccetera Dopo abbiamo la timeline di Rick vecchio Perché abbiamo la timeline di Old Man Rick Quindi praticamente di dopo la guerra Abbiamo la timeline di Rick che molto probabilmente si trova in una situazione Avete visto Rick con gli occhi rossi eccetera eccetera Quindi quella lì è un'altra timeline ancora E successivamente la timeline in cui c'è Daryl, Carol e tutti gli altri Che sostanzialmente stanno attaccando Stanno prendendo i vaganti e portarli nuovamente sostanzialmente al santuario Quindi praticamente il piano di Rick è fatto in questo modo Infatti il piano di Rick è stato direttamente realizzato Molto probabilmente da quello che si può avere intuito Molto probabilmente da Dwight In quanto praticamente Rick ha fatto in modo che Dwight ricevesse il messaggio tomorrow Infatti c'è stato lo scambio del messaggio con Rick e Daryl Praticamente molto probabilmente Dwight ha scritto all'interno di quel messaggio Tutte le tappe che ci sono da fare Tutte le illustrazioni e tutte le cose che ci sono appunto da fare Prima di attaccare, prima di fare appunto il primo attacco verso il santuario Quindi gli ha detto Dwight sostanzialmente tutte le procedure da fare per attaccare Negan Questo è tutto Una volta che sostanzialmente Negan Scusate Negan e Dwight ha inviato il messaggio a Daryl con la freccia E poi Daryl l'ha presa Da lì è cominciato tutto il piano di Rick Infatti il piano di Rick era per l'ustrazione Infatti hanno effettuato la per l'ustrazione tranquillamente Sono state fatte altre cose Sono state fatte sostanzialmente tutte le procedure che abbiamo già visto Appunto la mandria Che doveva attaccare praticamente il santuario E tutte cose insomma che erano descritte nel piano Questo piano andrà comunque a continuarsi Cioè andrà praticamente a protrarsi ecco nei successivi episodi Quindi se non avete capito qualcosa del piano di Rick Comunque verrà tutto analizzato piano piano nei successivi episodi Cioè il piano andrà avanti addirittura anche dopo il sesto o settimo episodio Per farvi capire che tutta comunque almeno parte della prima stagione Sarà dedicata al piano di Rick Successivamente molto probabilmente dal mid season in poi Negan si riprenderà Magari farà un attacco anche lui Insomma non si sa bene quello che succederà Però fidatevi che il piano di Rick deve essere ancora ben spiegato Sostanzialmente il piano appunto di Rick Era quello di portare praticamente i vaganti all'interno praticamente del santuario Per poter invadere completamente il santuario E praticamente umiliare Negan Questo è uno dei motivi per cui Rick non ha ucciso Negan a 20 metri dalla distanza Sicuramente molti si sono lamentati di questa cosa E hanno detto ma perché Rick stava a 20 metri di distanza e non ha ucciso Negan Questa è una cosa stupida Perché Rick in quel momento non voleva uccidere Negan In quel momento voleva sparare chiaramente alle finestre per attirare i vaganti Il suo obiettivo non è uccidere Negan e basta Il suo obiettivo è quello di umiliarlo come lui ha umiliato Rick nella prima stagione Nella prima puntata della settima stagione Non avrebbe senso prendere e uccidere Negan così a caso Perché non ha completamente alcun senso L'obiettivo di Rick e poi si vede chiaramente dopo quando scatta la foto con la Polaroid Si vede chiaramente che Rick vuole umiliare Negan Vuole uccidere ma allo stesso tempo umiliare Negan Ed è per questo appunto che poi Rick sostanzialmente non lo uccide a 20 metri dalla distanza Perché molti si sono lamentati Ha detto c'hai la M4 stai lì a 20 metri dalla distanza di Negan Che fai non lo ammazzi Questa è la domanda che si sono fatti tutti Ma chiaramente ragazzi non l'ha ucciso per un motivo L'ha ucciso per un motivo Perché l'obiettivo suo comunque era continuare il suo piano Cioè il suo piano non è uccidere Negan e basta Certo se ci riusciva ancora meglio Ma l'obiettivo di Rick comunque si era quello di attaccare il santuario con i vaganti E continuare il piano perché dopo il piano va avanti E praticamente ad attaccare tutti gli avamposti di Negan Per finirlo completamente Quindi questo diciamo era il piano di Rick Sostanzialmente lo show diciamo La puntata ecco è andata tranquillamente avanti Infatti praticamente dopo che si sono viste tutte le esplosioni Dopo che si è visto Rick attaccare il santuario Dopo che si sono viste tutte queste cose Ha accompagnato il tutto con dei flash forward Che sarebbero praticamente dei salti in avanti Non dei salti indietro Salti in avanti Abbiamo visto infatti sostanzialmente Rick Quindi praticamente vecchio Quindi Rick anziano Abbiamo visto Judith Abbiamo sentito Carl Abbiamo visto Michonne Chiaramente abbiamo visto che Michonne Non è invecchiata assolutamente di una virgola Da quanto invece è invecchiato Rick Cosa ci fa capire questo? Da quello che ho dedotto io Molto probabilmente questo sta a significare sostanzialmente Che Michonne sia morta durante la guerra E quindi praticamente Rick la immagina Come se la ricorda prima Nel senso deve comunque ricordarsi una Michonne Non ha mai visto una Michonne vecchia a questo punto Quindi chiaramente Michonne se la ricorda come era prima Come praticamente è stata durante la guerra Come sempre E lei è lì ma non è lì realmente Quindi questo secondo me è il tutto spiegato Del flash forward di Rick Poi insomma ci sono tantissime altre cose da spiegare Infatti molto probabilmente oggi farò uscire il video Dove vi spiegherò in dettaglio Quello che è successo con Rick Che ha gli occhi rossi E la fine dell'episodio Possa la mia misericordia prevalere sulla mia ira Un episodio Cioè un titolo Che io pensavo veramente facesse schifo Ma veramente è fantastico È natato uno spessore fantastico All'episodio Comunque insomma vi farò uscire oggi il video Dove vi spiegherò bene il motivo per cui Rick Ha gli occhi rossi Eccetera eccetera Non lo spiego in questo video perché potrebbe essere spoiler Quindi per evitare problemi Non voglio ovviamente spiegarvi nulla Parlando comunque Continuando l'episodio Si vede chiaramente Che ci sono dei flashback Flash forward Flashback flash forward Sostanzialmente A proprio a manetta Insomma A proprio tantissimi Infatti vediamo chiaramente Dopo Praticamente che si conclude l'episodio Non si conclude proprio Composta la mia misericordia Preverere sulla migliora Però dopo Questa scena Si vede Rick rifare nuovamente Il discorso Che ha fatto inizialmente Perché Rick come sapete Ha fatto il discorso inizialmente Dicendo che ovviamente Loro insomma Quando Jesus L'ha incontrato per la prima volta Mi ha detto che il mondo Sarebbe diventato molto più grande Ha fatto tutto il discorso Hanno attaccato Il santuario Hanno portato i vaganti Dopo praticamente L'episodio finisce con Un flash forward E un flashback Praticamente La scena diciamo finale È l'inizio del discorso di Rick Dove sostanzialmente dice Non importa quello che accadrà dopo Noi abbiamo vinto Noi abbiamo già vinto Questo è come si conclude Teoricamente l'episodio L'episodio si conclude sostanzialmente Con Rick che dice Noi abbiamo già vinto Ma chiaramente Ha delle interrogative assurde Perché all'interno di questo Di questo tutto riassunto Che ho fatto io Abbiamo il regno Che sta attaccando un altro avamposto Rick che sta attaccando Un altro avamposto La bomba esplosa Granata insomma Esplosa Fumante Insomma con il fumo Tutto il resto Insomma stordente Che hanno lanciato I salvatori L'attacco molto probabilmente Che il kingdom Cioè il regno Dovrà affrontare dei vaganti Ci sono talmente tante incognite In questo episodio Che verranno tutte quante Svelate All'interno dei successivi Quindi se non avete capito qualcosa Capito qualcosa All'interno di questo episodio È normale L'episodio è stato realizzato Apposta così È stato realizzato apposta Per pian piano Darvi una spiegazione Del tutto logica Di tutti gli eventi Che stanno accadendo Quindi magari si spiegherà bene Come sono stati piantati Quegli esplosivi Perché comunque chiaramente Noi nel trailer Abbiamo visto Jesus Piazzare la scatola Che poi praticamente Ha fatto esplodere Daryl Eh Degli esplosivi Quindi chiaramente Insomma tutte queste cose Tutta questa costruzione Degli eventi La vedremo Pian piano Con le puntate successive È stato fatto apposta così Proprio perché comunque Doveva subito iniziare La premiere A bomba E far capire Ovviamente ai fan Che comunque Tutto quello che stanno facendo È tutto un piano E quel piano Verrà presto poi spiegato Nei successivi episodi Ragazzi Quindi questo è l'episodio Infatti mi è piaciuto Davvero tantissimo Ed è uno dei motivi Per cui Veramente L'ho adorato tantissimo Ho adorato tantissimo Il personaggio di Rick Come è stato sviluppato In questo episodio Come si è comportata Maggie Come si sono comportati Tutti quanti Dal primo all'ultimo Molto probabilmente L'unica cosa Che fa rabbrividire E fa incazzare Un po' i fan È sostanzialmente Il fatto che Rick Non ha ucciso Negan O ancora meglio Mi sono scordato Di dirvi la scena In cui Gabriel È di fronte a Negan E dice Spero tu ti sia portato Il pannolone Perché chiaramente Poi non vi ho detta La scena Perché mi sono dimenticato Dove Gabriel Va ad aiutare Gregory Gregory lo tradisce Dicendo no no Tu sei un pezzo di merda Io me ne vado da solo Con la macchina Gregory è uno stronzo Se n'è andato da solo Ha lasciato Gabriel In mezzo agli zombie Se n'è dovuto andare Insomma si è dovuto un po' Se n'è dovuta un po' cavare E poi è entrata dentro Questa porta Dove questa Dentro questa stanza Il santuario C'è Negan Che dice Spero tu abbia portato Il pannolone Cioè io ragazzi In quella scena Se fossi stato in Gabriel Non avrei sparato Nemmeno io Avrei temuto Negan Perché tutti noi Temiamo Negan Sotto sotto Anche Rick Sotto sotto Teme Negan E questo è uno dei motivi Per cui magari non l'ha ucciso Anche per quel motivo là Perché aveva paura Comunque Non riesce a ragionare lucidamente Quando Negan Ha di fronte Perché Negan Comunque È colui che l'ha piegato Non è facile Come sembra Andare verso il nemico Una guerra Non è mai semplice Così Così ecco Cioè nel senso Non è semplice Come sembra Quindi ovviamente Tutto questo Andrà poi a costruirsi Pian piano Con le puntate Infatti molto ovviamente Scopriremo Gabriel Che fine ha fatto Insomma che fine farà Magari Gabriel non ha addirittura I colpi in fucile Perché comunque Ricordiamo che Non ha continuato a sparare Dopo che comunque Tutti gli zombie Lo stavano per accerchiare È dovuto entrare Dentro questa porta Per un motivo Altrimenti credo Che avrebbe sparato Quindi magari Aveva finito i colpi Tanti motivi sono Per cui Gabriel Non ha sparato E magari verranno poi Presto analizzati Con le successive puntate Quindi prima di saltare A conclusioni Di dare un giudizio A questa puntata Dobbiamo prima Capire bene Tutte le altre Per poi ricongiungerci Tutto al primo episodio Quindi posso dare un voto Posso esprimere Grosso modo Un voto a questa puntata Io gli darei 9,5 9,8 Come ho dato ieri 10 meno Sostanzialmente Alla puntata Questo perché Perché chiaramente Io darò un voto pieno Soltanto quando Tutti gli eventi Si saranno Completamente spiegati Ed avrà un senso Molto più profondo Questo episodio Chiaramente È stato realizzato Per far aspettare I propri fan Prima di giudicarlo Infatti Tutti quanti Hanno giudicato In modo affrettato L'episodio Dicendo Eh ma Rick Non ha ucciso Negan Perché tutti Credevano che Rick Fosse lì per uccidere Negan Quando era lì Per un piano specifico Ragazzi Era un piano specifico Era stato progettato Questo piano Era un piano Quindi non è che lì Uccidi Negan E finisce la storia Non è così ragazzi Non è assolutamente così È tutto L'inizio Di quello che sarà Una grande guerra Quindi evitiamo Di scrivere commenti insensati Di giudicare l'episodio Prima del dovuto Concentriamoci Sugli eventi successivi Che accadranno Negli altri episodi Poi magari Se avete ragione voi Dicendo Se avete ragione voi Nel senso non voi Ma tutti quelli che criticano L'episodio Ovviamente Io vi darò ragione Successivamente Ma adesso Come adesso L'episodio è stato brillante È stato un centesimo episodio Come si deve Magari si avrei realizzato Un qualcosa di Un pochino meglio Ma grosso modo L'avrei fatto in questo modo Quindi sono veramente contento Di come l'hanno realizzato Mi è piaciuto davvero tantissimo Lo spessore Che hanno dato alla frase Che hanno dato all'episodio Che si prospettava Essere un episodio Con il titolo italiano Uno dei più brutti titoli Perché possa La mia misericordia Prevedere sulla mia era Talmente tanto lungo Ma hanno avuto un senso Anzi mi è piaciuto molto di più Questo titolo Che quello Inglese Insomma Quello americano Merzi Quindi per farvi capire Un po' come Come insomma E quindi insomma Veramente Sono davvero Veramente felicissimo Di quello che hanno realizzato In questo centesimo episodio Staremo a vedere con i prossimi Come risolveranno Tutte queste questioni aperte E speriamo appunto Abbia tutto un senso Fatemi sapere voi nei commenti Cosa ripensate Dell'episodio 100 Dell'episodio 8x1 Di The Walking Dead Fatemelo sapere ragazzi Mi raccomando Con un commento Ci terrei veramente tantissimo E spero questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Vi lasciano un mi piace Perché ci tengo Veramente moltissimo Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi Per non perdere i prossimi Di The Walking Dead E se volete entrare nel gruppo Telegram Mandate un messaggio In privato Scrivete la vostra valutazione Qui giù nei commenti Dell'episodio Quindi il vostro voto Personale all'episodio Perché insomma L'episodio a me è piaciuto tanto E staremo a vedere voi Cosa è piaciuto o meno Staremo a vedere nei commenti Ci vediamo ragazzi Penso tra poco Se riesco a fare oggi Subito dopo un video Dedicato sostanzialmente Al motivo per cui Ric ha gli occhi rossi Staremo a vedere appunto Se riuscirò a farlo Ma penso proprio di sì Forse lo caricherò appunto Due ore dopo questo Insomma mi organizzerò Con la giornata Ma state sintonizzati Perché ne usciranno Veramente di tutte Di tutti i colori Ecco di tutti i video Insomma perché Fidatemi che questo primo episodio Contiene tantissime cose Da analizzare Quindi Se ne saranno di Di tanti video Spero questo video vi sia piaciuto Ne sentiamo al prossimo Un saluto dalla Foxzone The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ma io ti ucciderò